E' un marzo davvero stregato, quello per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che non esce dal tunnel negativo e subisce a Viareggio la terza sconfitta consecutiva, in una gara che il Vela ha controllato fin dalle prime battute di gioco. Gli Amaranto hanno subito l'inizio dirompente degli avversari, che hanno messo a referto otto triple nei primi due quarti di gioco, costringendo in detto di Coccio Pacini a rincorrere i padroni di casa. Al rientro dall'intervallo l'Amen non riesce a cambiare il ritmo di gara, finendo sotto anche di 21 punti, rendendo meno amara la sconfitta solamente nei minuti finali, quando la stanchezza del Vela e la maggiore intraprendenza dell'Amen hanno firmato il 69-58 finale. Domenica prossima si torna al Palasport Estra contro Quarrata, uno scontro diretto dove la SBA dovrà rimettere in campo grinta e determinazione per invertire questo trend negativo.